signori e signori nuovo contratto chiuso imprenditori non c'era inferiore c'è anche lei forza nocerina occhiali più belli del mondo come si chiamano calabas ha chiamato un cliente e mi voglio essere fatto un pacchetto ti rispiego senti come l'ha detto l'italiano io voglio essere fatto si può dire quindi e quindi ragazzi è successo una cosa assurda oltre i miei capelli una cosa veramente assurda vero pupillo assunta non ridere carolina non ridere chi è rocco casalino ma chi è rocco casalino chi è rocco casalino zitti chi cazzo è rocco casalino non sai chi è non sai non ti grattare che così che se rocco casalino è quello che faceva il grande fratello sai che faceva il grande fratello chi chi ragazzi queste storie per se storie con questa domanda potrebbero durare un'infinità e siccome non mi voglio rompere i coglioni perché ormai il livello è talmente basso ma il livello è talmente basso io sono riuscito a fare una cosa talmente assurda che veramente forse penso di essere dio quest'uomo diventerà direttore di un settimanale nazionale ma vi rendete conto quello che tocco diventa oro anche la nullità rispondere sì con la voce più forte più che cazzo hai fatto sei tutta bagnata e niente mi stavo facendo la maschera mi smaglietta bagnata sì sì male che c'è lui il mio pupillo il gabriel garco di atena il cristiano ronaldo di atena il lebron james di atena gaetano lo stiloso